La prima delle due torri di Prilling è venuta giù, o meglio, è stata sgretolata per la seconda su cui erano iniziati i lavori di demolizione. Resterà ancora lì per alcune settimane. L'allarme è scattato quando la centralina dell'ARPA ha rilevato l'aumento della percentuale di arsenico di sei volte superiore la soglia massima consentita. Tutto è coinciso con le operazioni di abbattimento della prima torre. Il limite fissato è ad un massimo di un microgrammo per metro cubo. Ci sono stati picchi che hanno raggiunto i nove microgrammi. La ASL, informata, ha immediatamente bloccato le operazioni di abbattimento. Nel corso delle due conferenze di servizio convocate presso il comune di Manfredonia, è stata disposta la collocazione da parte dell'ARPA di altre centraline per i rilievi. Il professor Blonda, direttore scientifico dell'ARPA Puglia, ha accertato che i livelli di arsenico nei giorni successivi all'abbattimento sono tornati alla normalità. L'Exenicam rientra tra i siti da bonificare di interesse nazionale. Sarà infatti il Ministero a valutare la necessità di particolari misure necessarie a limitare l'emissione di arsenico.